Parliamo di trasporto pubblico locale. I casi ve li abbiamo mostrati nel corso dei telegiornali. Un gruppo di persone di colore che denuncia un atteggiamento di razzismo da parte di alcuni autisti di bus. I migranti non fanno il biglietto per cui possono pure rimanere a piedi. Sarebbe questa l'equazione che scatta nella testa di alcuni autisti o meglio di quelli che non si sono fermati a Solofra a prelevare le persone in attesa. E si tratta di razzismo? Non lo sappiamo ma di certo i disagi sono universali. Tant'è che lungo la tratta Ariano, Grotta Minarda, anche gli abbonati restano a piedi o meglio sono costretti ad affrontare un viaggio stipati come sardine all'impiede ammassati l'uno sull'altro. C'è chi preferisce davvero andare a piedi. Non ci sono altre corse sostitutive, i bus sono insufficienti. Premessa, l'unica soluzione possibile in Irpinia è la riattivazione della ferrovia. Lo aveva capito Bene De Santis 200 anni fa. Solo così si agevolerebbero i trasporti in questa provincia. Ma siamo sicuri che non ci sono altre corse da tagliare per potenziare i collegamenti destinati ai pendolari, soprattutto dai piccoli centri. Non si potrebbe togliere qualche corsa verso Napoli, riattivando magari la ferrovia che consente di raggiungere il capoluogo partenopeo in 70 minuti. Insomma, trasporto pubblico locale che diventa trasporto pubblico animale ad Ariano. TPA, TPA anche per Solofra, trasporto pubblico apartheid. Disagi universali da parte dell'AIR, della provincia, della regione. Disagi da risolvere. E questo è il punto.